Ma come cazzo si fa ragazzi? Allora premessa, scusate per dietro, non c'ho una cartelleria però sto dando a mano oggi, vabbè, comunque a parte questo, a parte questo, c'è ragazzi, ma come cazzo si fa? Nel 2019 è una cosa del genere, non succede manca calcetto, organizzo le partite di calcetto, questa cosa non succede ragazzi. Sì, allora ieri il Chelsea ha perso la Carabao Cup in finale contro il Manchester City di Pep Guardiola ai calci di rigore, fino a qua niente di male, ci può stare insomma, il Chelsea non è in un momento rosio, avrebbe fatto bene vincere questa partita, però insomma diciamo che va bene così, diciamo che può capitare, diciamo che perde una finale ai rigori di Coppa Inglese, ci può stare, va bene così. Che cosa è successo ragazzi? È successo che al centoventesimo, al centoventesimo, Maurizio Sarri ha chiamato Kepa e gli ha detto vieni perché entra al tuo posto Caballero, Caballero, Caballero. Dovete sapere che quest'ultimo è un pararigori de professione, cioè uno dei pararigori più forti al mondo, che ha bisogno di difetti lo sappiamo tutti, fa un po' dei guai e non è sicuro per niente nelle uscite, sbaglia tanto tra i pali, però tra i pali, quando c'è un rigore da parare, per la maggior parte delle volte, il pallone non gli sfugge mai, non gli scappa mai e Caballero è famoso per questo. Al centoventesimo Sarri ha fatto così, ha chiamato Kepa, Kepa si è rifiutato di uscire dal campo ragazzi, cioè ragazzi è successa una cosa pazzesca, pensateci, devi uscire, no non esco, cioè ragazzi è successa una cosa veramente pazzesca. Sarri si è infuriato, si è incazzato da morire, tutti i quotidiani inglesi o gli ex calciatori inglesi eccetera, o che comunque hanno frequentato la Premier, sono andati ovviamente tutti a favore di Maurizio Sarri, cioè chi ha detto io fossi stato Sarri adesso caccerei, licenzierei Kepa, lo metterei fuori squadra perché non merita assolutamente di essere lui il portiere titolare di una squadra come il Chelsea, comunque gloriosa, visto che non rispetta l'allenatore, addirittura company post partita, difensore centrale del Manchester City regà, bandiera del Manchester City ha detto in tanti anni di carriera non avevo mai visto una cosa del genere, quando ho visto che nonostante Sarri volesse fare il cambio in porta c'era, ma cosa sta a scivolare comunque me sa, che in porta c'era Kepa e non c'era Cabacero ho tirato un sospiro di sollievo, perché? Perché ero felice, perché Kepa è forte, ma i rigori non è che sia chissà che, Cabacero i rigori mi pare veramente, quindi quando ho visto che alla fine ha detto lui c'era Kepa ho esultato, sono stato contento, ora non so perché Sarri dice che Sarri dribbla le polemiche, perché ovviamente se poi la società gli dice speso 70 milioni, ti tenete quel portiere, non lo puoi bruciare, in conferenza stampa Sarri ha detto ci eravamo capiti male, pensavo ci avessi i grampi, non è voluto uscire, però altrimenti se così fosse spiegatemi la reazione di Sarri, che se strappa la tuta nervoso, chiama a gran voce Kepa che non esce, poi piglia in bocca negli spogliati, nel tunnel degli spogliatoi, prima dei calci di rigore, si incazza, non torna, poi ritorna arrabbiato, ragazzi c'è qualcosa che non va, si è strappato la tuta, c'è qualcosa che non va oggettivamente, sinceramente mi fa quasi schifo pensare che adesso ancora ci siano giocatori che fanno ammutinamento contro l'allenatore, io spero che se fosse così, cioè se veramente Kepa abbia detto io non esco, spero veramente che il Chelsea chiuda la stagione con Cabacero tra i pali, perché bisogna portare rispetto all'allenatore, bisogna portare rispetto a chi ti sta dietro, cioè per me ragazzi questa è una cosa fondamentale, una cosa fondamentale del calcio, una squadra funziona se i titolari portano rispetto ai vice, perché il vice è sempre lì, perché il vice sta sempre zitto, perché non dice niente, non fa un fiato, è in attesa che tu un giorno possa riposare affinché lui possa, scusate se ho sbagliato verbo, vabbè, farsi quei 10-20 minuti, nel caso importante magari quella partitina, e sta sempre zitto, dal momento in cui tu smetti di rispettare il tuo vice e il tuo allenatore, perché lì ragazzi si tratta di questo, se il ministro ti dice esci, tu esci, altrimenti non stai rispettando né il tuo secondo portiere che dovrebbe entrare nell'allenatore, per me ragazzi è una cosa imperdonabile, per me è una cosa imperdonabile, e vi dirò di più, hanno perso la coppa per Cepa, perché Sarri ha fatto altre scelte, Sarri ha scelto di mettere Cabacero, magari avrebbe parato i rigori, non lo sappiamo ovviamente, cioè se mi nonno aveva tre palle era un fripper, se mi nonno aveva le palle era nonno, però capite bene, capite bene regà, che Sarri avrebbe fatto altre scelte, questa partita è la persa Cepa, semplicemente, doveva parare tutti i rigori, mi dispiace, hai voluto fare sta cosa? E mo ti accogli tutto, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, vi aiutemi da lasciare un mi piace, in caso contrario un dislike, vi ringrazio per aver visto questo video, buon sceladale, e noi come sempre, ci vediamo ad un prossimo video!